Io l'ho visto costruire questo ponte e lo si è preso in due monete, è 64 anni, ha 49 anni. La gente si ferma quest'oggi a Catania e si trattiene qui. All'inizio di Viettenea i loro occhi puntano il ponte Gioeni e lo salutano per l'ultima volta. Da questa notte che siamo qua, abbiamo visto il ponte, è stata molto confusione, tutti sono venuti da questa parte, da l'altra parte e c'erano molte persone. I catanesi sono qui, così come se avessero dato un appuntamento di Viettenea che da più di mezzo secolo è qui, sovrasta la circomalazione etnea. Una data che non passerà inosservata a molti, oggi infatti il 10 agosto è San Lorenzo. E come una stella cadente nel filmamento cittadino, quest'oggi il ponte Gioeni si svietulerà davanti agli occhi attoniti dei suoi catanesi. Grazie.